bella raga ecco la parte 2 perchè è finita la prima ma comunque siamo in 5 bro mi sa che ci stanno pushando mi sento molto vicino i passi però non ho neanche più materiali un po sotto voglio fermare grazie per aiuti nel canale e white uno bro va bene va bene dove sei giù qui da te una qua no vieni via vieni via sali sali abbiamo live avrò però questo così pochino abbiamo live ho finito il legno bro dobbiamo andare sotto no no perchè è sotto però qua c'è un tizio fermo via ma dov'è uno noccato morto dai c rega vai gg win gg gg rega vai facciamo altre partite win 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 ci vediamo al prossimo video e alla vostra carrozzeropala ciao rega grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti